Erba alta, tanto da nascondere completamente, addirittura un campo di bocce, gomme delle vetture tagliate, specchietti di velti dalle auto in sosta, sostanze stupefacenti, atti vandalici. Tutto questo accade in un quartiere di Civitanova Marche. Ci troviamo nei giardinetti dietro alla chiesa di San Gabriele. Come vedete i vandali hanno devastato questo gazebo, hanno staccato i cestini dei rifiuti e a quanto pare questo è il luogo prediletto dagli spacciatori. Le aree verdi sono abbandonate all'incuria. Tra i cespugli dei giardini per bambini sono state trovate bustine di stupefacenti. La tabaccheria del quartiere è stata visitata dai ladri quattro volte in tre mesi. Una situazione insostenibile per i residenti di San Gabriele. È il degrado del verde urbano che secondo me è la cosa più preoccupante, oltre ai furti e allo spaccio. Difficile anche portare i figli a spasso con la carrozzina. I bidoni della spazzatura dovrebbero essere svuotati e puliti più spesso. In tutto questo i cittadini percepiscono le forze dell'ordine come assenti e tentano di organizzarsi da soli. Qui a San Gabriele ci sono più associazioni di controllo del vicinato? Sì, in realtà ci siamo organizzati per fare qualche giro la notte perché gli ultimi tempi sono più difficili degli anni passati.